Sarà molto difficile vederlo sul naso di tutti, almeno per ora, un costo proibitivo, un peso considerevole e un utilizzo che strizza l'occhio più all'ambiente domestico o a quello lavorativo rispetto a quello all'aria aperta. Grazie ad Innovation Group, società specializzata nello studio delle evoluzioni del mercato digitale e nei processi di innovazione abilitati dalle tecnologie e dalla conoscenza, abbiamo provato i nuovi Apple Vision Pro, ledset di computing spaziale della casa di Cupertino, già lanciato negli States e che potrebbe arrivare in Italia entro la fine dell'anno. L'effetto wow è assicurato, ma manca ancora qualcosa, l'immersività fa da padrone, il feeling richiede un po' di tempo e le possibilità sembrano ristrette a una selezione di esperienze. Il pensiero vola subito agli applicativi nel mondo dell'entertainment, ma anche a quelli della formazione, grazie a modelli 3D che consentono un utilizzo iperrealistico. Sicuramente un concentrato di tecnologia che fa impressione, tutte le telecamere, il LIDAR creano veramente un oggetto unico oggi sul mercato che ti permette di fare cose che non ti aspetti, come far poggiare una farfalla virtuale sul tuo dito mentre stai vedendo un film. Ha dei processori pazzeschi per cui il 3D rendering lo effettua a una velocità incredibile. Cosa farne di questo oggetto? Chiaramente non sarà un oggetto popolare, visto il prezzo, ma sicuramente l'impiego in alcuni settori è chiaramente visibile. Dalla medicina sicuramente per imparare a scomporre il cuore, come abbiamo provato a fare prima, o a tutti quella meccanica complessa che ha bisogno di essere insegnata. L'altra parte è l'entertainment, cioè questi video immersivi sono qualcosa che lascia bocca aperta. E chissà se un domani vedremo un applicativo anche nel marketing dove, grazie alla realtà aumentata e a quella virtuale, i brand potranno veicolare direttamente da vetrine, negozi e ristoranti, messaggi pubblicitari, informazione e inviti all'acquisto. Solo il tempo però ci dirà se questo oggetto guiderà una nuova rivoluzione tecnologica.